però trape che tu dico io comba, 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 comba se c'eravamo in Zemmola era diverso, comunque ma non lo sapevo, comba, è in Zemmola, non lo sapevo eeeh comba, comba ha presenza e potenza ma chi dove c'è col virus? l'ho visto? c'è col virus ancora, quando arriva l'andovirus guarda 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 l'andovirus che do virus che do virus che c'è? che do virus se l'acchiappa non ci ne può, non è vaccino io sto cercando di farla crescere questa cosa di farla crescere crescere economicamente deve crescere deve crescere questa cosa e credimi tra il tuo il tuo appoggio e chi dica io giusto perché il rispetto a te è il sogno più libero devo farla crescere questa cosa è una soddisfazione che io mi devo prendere infatti oggi mi viene a trovare mi viene a trovare un amico che mi porta un panettone denaro ehm ci disse vedi che l'anno nato è stato lontano che ti ha fatto la tua vedi che l'anno venente ti voglio vicino chiuso quando uno vedi davanti ci disse forse un toro e una pecora c'è quale forza scegliere tu io dico chi ha dato il toro e allora c'è la stessa la pecora spero che il segno rosso ne metta su mano divena vengordo e che ne fa proseguire che sono onesti sofferenti in un modo o nell'altro e il segno rosso la mette nella mano e mia una fabuzza si sparta a metà con l'amico mio come l'ametto io come l'ametto io l'ametto io il looking bell'ametto io come l'ametto io come lepresa in un modo rumore password Si ci va a Monsemua, era diverso, comunque... Ma non lo sapevo, compa, è Monsemua, non lo sapevo... Eeeh, compa, compa, ha presenza e potenza! Eeeh, compa, 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 compa...